Il sole, le spiagge, le cinevista mare, l'estate. Una stagione che porta con sé turisti ma anche un intero mondo lavorativo, quello dei lavoratori stagionali e delle attività turistiche, che nel corso degli anni vedono sempre più una mancanza di personale. I fattori sono fondamentalmente due. Uno, che è cambiato in qualche modo nelle nuove generazioni, l'approccio al lavoro in generale, perché ovviamente il lavoro oggi viene considerato una parte della propria vita, non centrale certamente, ma che viene tenuto nella stessa rilevanza di anche altre parti della nostra vita molto importanti, il tempo libero, il vivere, il viaggiare, l'occuparsi anche di altro. Oggi le nuove generazioni hanno anche questo tipo di approccio che non è un approccio negativo, è un approccio concreto. E quindi anche il mondo del lavoro dovrebbe in qualche modo interrogarsi e dovrebbe in qualche modo adattarsi anche alle generazioni che cambiano e anche ai valori che cambiano. Questo vuol dire che i giovani non hanno voglia di lavorare? Assolutamente no. Vuol dire semplicemente che l'organizzazione del lavoro dovrebbe adeguarsi anche alla cultura del tempo. L'altro aspetto riguarda invece le tipologie di inquadramento dei lavoratori di questo settore e l'applicazione dei contratti collettivi. È inutile prenderci in giro in quei settori, in modo particolare viene utilizzato molto spesso la forma del part-time, mascherando in realtà un rapporto di lavoro che va ben oltre le ore di part-time contratualizzate. Questa cosa ovviamente in genera che cosa? In genera che per una parte di quel lavoro, non dico tutti ovviamente, ma una buona parte, i dati parlano chiaro se noi andiamo a considerare tutte le vertenze che il nostro ufficio vertenze e contratti fa all'anno proprio per i temi del cosiddetto lavoro grigio, cioè una parte di quel tipo di retribuzione mi viene data in busta e una parte mi viene data fuori busta o in forme, diciamo così, non legittime. Se io vado a vedere dove avviene il fenomeno e quando avviene il fenomeno, prevalentemente avviene nelle fasi appunto del lavoro stagionale estivo e soprattutto in quei settori che ho elencato prima. La critica viene quindi rivolta alle imprese del settore turistico e al ristorativo, anche a fronte di un dato percentuale che riguarda il numero di persone che scelgono la professione alberghiera come percorso lavorativo. Prima si dava colpa al reddito di cittadinanza, ovviamente impropriamente, oggi che non c'è più il reddito di cittadinanza il problema si ripropone, quindi credo che probabilmente il mondo delle imprese, delle imprese che stanno in quei settori, dovrebbero interrogarsi in maniera molto più seria di quello che stanno facendo, oltre a strellare sui giornali che non si trovano le persone, ed è il perché probabilmente c'è più refrattarietà da parte soprattutto delle nuove generazioni a lavorare lì. Io ricordo che a distanza di cinque anni dal diploma degli istituti alberghieri, soltanto il 30% di quei ragazzi diplomati rimane nel settore, e quando dico rimane, di quei ragazzi che si sono spesi a lavorare in quel settore. Quindi un tema c'è, ed è un tema che va ben oltre la vulgata, oggi i giovani non hanno voglia di lavorare, cosa assolutamente stupida anche da dirsi.